come? una vinta, una pareggiata questa è nel senno del 2010? si, qual è l'età qui? ma tu hai ancora il girone? quanto è che avete pareggiato? appena un pochino, virtus bergamo quante? 2009? io so che gli occhi foste tutti insieme nel vostro buco no, no, vuol dire si, però... perciò siete arrivati i terzi? no, nel giro è delle seconde si, siamo arrivati come i terzi però a pari merito con un altro ci siamo... esatto, noi con i vigoi siamo arrivati nel giro è delle seconde poi nel secondo... nell'altro giorno come si sono messi? ciao Fabio bello! bello, bravi! 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 proprio... magari una volta... primi sei mesi poi... 20 anni 16 anni 15 anni 15 anni 17 anni 24 anni 15 anni 15 anni 15 anni Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.